Stand Marchesi de Frescobaldi, non potete immaginare che cosa succede dietro le quinte di questo stand, c'è gente, si parla, si condividono idee e progetti sul mondo e sul mercato del vino. Qui con me c'è Lamberto Frescobaldi e subito passerei a lui la parola per dirci prima di tutto la vostra azienda storica, dove si trova e in che magnifico territorio. Le nostre radici sono fiorentine, quindi abbiamo due aziende storiche nel territorio fiorentino che sono Pomino e Nipozzano, poi ci sono anche le aziende che sono nel centro-sud, quindi Montalcino con Castaggio Condo, poi sulla costa con un'acquisizione bellissima che è stata Ornellaia ormai nove anni fa, poi giù in Maremma l'ammiraglia che è una cosa nuova che stiamo per presentare, ma è nuova per modo di dire perché ormai siamo lì dal 99 e sono già passati 12 anni che siamo lì. A proposito di Nipozzano, abbiamo qui una bella bottiglia, che cosa ci racconta di questo vino? Nipozzano è un po' il vino che io vorrei dire che ci rappresenta, sicuramente a me perché io sono cresciuto lì, ho passato i miei primi anni proprio da ragazzino appassionandomi nelle vigne, in cantina. Nipozzano è un posto a est di Firenze, siamo nel comune di Pelago, Nipozzano tra l'altro vuol dire Nipozzano senza pozzi, è una zona piuttosto arida e estremamente qualitativa per fare un bel Sangiovese. Ecco, Frescobaldi come azienda, come si pone di fronte all'importanza della comunicazione nel settore del vino? Il comunicare è molto importante, nei secoli è sempre stato importante, prima si comunicava facendo i quadri, ora si comunica in tanti modi diversi, oggi giorno la comunicazione può passare attraverso internet, attraverso una televisione, però si sta anche rivalutando molto la radio, la radio è un bellissimo strumento che sempre più le persone ascoltano e penso che tenga più compagnia la radio che tanti altri strumenti. Assolutamente sì, quindi possiamo sfatare l'idea che il mondo della tradizione vitivinicola non può avvicinarsi a un metodo di comunicazione più innovativo? In realtà però essere tradizionali, poi per una famiglia o per un'azienda che ha della storia, non è esattamente essere tradizionali, essere innovativi perché se non si è mai innovativi il mondo è severo, si sparisce e quindi un po' di sana innovazione, poi chi non fa, come si dice, me l'ha sempre detto mio padre, chi non fa non falla e allora bisogna provare. Diciamo anche la tradizione, anche i grandi devono in qualche modo adeguarsi anche alle nuove metodologie della comunicazione? Assolutamente, che siano aziende più grandi, meno grandi, tutti devono trovare un loro equilibrio nel comunicare quello che fanno perché oggigiorno il consumatore ha tantissima offerta, viene bombardato da tantissime cose, oggigiorno grazie al cielo c'è una riscoperta del territorio di non volere dei gusti omologati, c'è anche quel momento della propria giornata della propria vita che ci piace anche delle cose più esclusive che si possono confacere a noi in modo soggettivo, che le vogliamo sentire proprio nostre. Ecco, vorrei parlare anche dell'esperienza di Frescobaldi e Wine Bar. Questa è stata una cosa che ci siamo lanciati, ormai sono tanti anni, è stato nel 99, abbiamo aperto il nostro primo Wine Bar a Fiumicino, mia sorella Diana è stata con lei ed è ancora con lei che segue i nostri Wine Bar, che ne abbiamo tre adesso in aeroporto e poi abbiamo anche un ristorante a Firenze e uno a Harrods a Londra. Wine Bar è stato un po' un salto nel vuoto perché andarli a fare in aeroporto dove solitamente non è esattamente la qualità che si ottiene e invece voler fare una cosa di estrema qualità è stato poi molto gradito dai passeggeri che passavano lì. È stata un'esperienza straordinaria perché intanto ci ha fatto vedere in faccia il nostro consumatore perché solitamente noi vendiamo a intermediari e quindi non vediamo mai se c'è una buona espressione o una cattiva espressione, perché va una cosa, perché va un'altra. Lasciamo di fatto le bottiglie essere richieste per conto loro e per cui tante volte bisogna affinare il tiro, affinare il packaging, l'etichetta, tutto. Quindi senza forzare troppo la mano guardate con attenzione e delicatezza quello che avviene all'interno del mercato. Questa è una cosa buona. Ecco, Frescobaldi rispetto al mercato italiano e il mercato estero in generale, come si pone in questo momento storico? Per noi il mercato italiano è pur sempre il nostro primo mercato, è fondamentale per noi voler essere qui, vogliamo svilupparlo sempre di più e poi l'estero sono tante più persone e quindi per noi il lavoro all'estero è il 60-65% del nostro giro d'affari. Però l'Italia come singolo mercato è il primo mercato. Ci stiamo impegnando molto, abbiamo ultimamente fatto anche una campagna stampa di comunicazione sia su carta stampata che sulla radio proprio per sviluppare sempre di più questo mercato qui, crediamo molto, crediamo che quando uno straniero beve una nostra bottiglia in Giappone o in California o non so dove, poi deve anche poter tornare qui in Italia e trovarla. Quindi questo qui è assolutamente da presidiare e ci mettiamo grande impegno. E allora noi da buoni italiani, quest'anno ancora ribadisco 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, brindiamo con questo nipozzano qui da Frescobaldi. Grazie.